Pamela Prati, si è dimostrata sin dal primo momento nella casa molto sofferente, la showgirl sarda, dopo aver rifiutato l'opzione di abbandonare volontariamente la casa, offerta agli dalla produzione durante la puntata di lunedì scorso, è di nuovo in crisi. Inoltre non sembra essersi integrata molto nel gruppo, e questa volta è compiuto un gesto che le potrebbe costare davvero caro. Infatti si parla di un'espulsione imminente dal programma. Tornata dal carwash con Laura Friddi, Pamela Prati ha avuto un attacco di malinconia, e si è blindata in bagno per moltissimo tempo. In seguito, si è ranicchiata sul divano nascondendosi sotto alle coperte isolandosi da tutti. Poi, come racconta Laura Friddi, pare che Pamela abbia provato ad uscire dalla casa aprendo la porta rossa. Tentativo di evasione subito scongiurato dal grande fratello, il quale ha richiamato all'ordine la concorrente. Nel frattempo sono passate molte ore, e la crisi della showgirl è aumentata. La donna non si è schiudata dal divano neanche per cenare, e gli altri concorrenti cominciano ad essere stufi del suo comportamento, specialmente l'Enoir Casalegno, la quale non crede che una persona che soffre di claustrofobia possa stare chiusa per ore in bagno. Infine, dopo i tentativi vani degli altri inquilini di tirarle su al morale, la donna ha cenato da sola con un piatto di spaghetti. Sarà l'ultima notte nella casa per lei, lo scopriremo nella prossima puntata. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace, e iscriviti al canale. Grazie!